Allora, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Artura L'Ostreinta di Martin Shanli, che abbiamo qua il piacere di accogliere, benvenuto. Allora, regista, sceneggiatore, il film è stato selezionato alla 41esima edizione del festival in concorso lungometraggi ed è un'anteprima italiana. Ha avuto la sua prima mondiale al festival di Berlino nella sezione forum e poi ha partecipato al festival internazionale di cinema di Buenos Aires e ha ottenuto il premio per il migliore regista del concorso nazionale. Poi ha partecipato anche a numerosi altri festival, tra cui il festival alle Canarie, dove ha vinto il premio della migliore interpretazione, quindi non come regista ma come attore. È uscito in sala in Argentina in ottobre e credo anche in molti altri paesi. È una produzione Puma della società argentina e è stato prodotto anche col sostegno dell'Istituto Inca. Vede la partecipazione dello stesso Martin e con un cast poi molto numeroso. Questo è il suo secondo lungometraggio. Ci sono molti elementi in questo film da tenere insieme. C'è il testo del diario, c'è la voce off, ci sono gli andi rivieni temporali. Volevo capire se sono... perché il risultato è un racconto molto fluido. Allora volevo capire se il lavoro complesso è stato fatto anche con altre persone. Come avete lavorato alla sceneggiatura? C'è il testo del diario? 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 C'è il testo delle cose off. C'è il testo della voce off? C'è il testo di rifiarsi? E poi, sui elementi come la voce in over temere. con cuidado quindi si si recorrierono a molti elementi come questi cliphangers come di lasciare la film in suspenso che così generava una intriga come si risolvono questo che si è incompleto il film è stato richiesto è un progetto che ha richiesto parecchio tempo, parecchi anni il progetto si è sviluppato nel corso di parecchi anni comunque l'idea originale tuttavia era diversa da quello che si vede nel film l'idea originale era un insieme diciamo cucire insieme un certo numero di vignette o cortometraggi quasi in cui apparivano tutti gli altri personaggi con Arturo come diciamo una specie di personaggio secondario, una specie di guida che collegava tutti gli altri personaggi poi alla fine in realtà essendo col passare del tempo ho deciso di dare valore capitalizzare quello che è proprio il trascorso il tempo trascorso ormai per cui la visione è stata modificata completamente utilizzando quello che doveva essere in realtà l'ultimo capitolo del film trasformandolo in quello che è il presente l'attuale l'attualità il momento presente nel film con tutti i riferimenti poi a invece quelle che erano le varie vignette originariamente sotto forma di per esempio flashback che avrebbero poi appunto sviluppato le storie collaterali diciamo così e per quanto riguarda tutti i vari elementi compresa la voice over eccetera diciamo che sono state una specie anche di di espediente per riuscire a mantenere con grande attenzione però quella che è l'attenzione stessa insomma la curiosità dello spettatore degli spettatori utilizzando diciamo parecchie anche tutti questi elementi anche la voice over come una specie di cliffhanger cioè un qualcosa che tiene sull'accordo lo spettatore che ha vivo l'interesse nel momento in cui ci sono degli episodi dei momenti che rimangono incompiuti volevo chiederle la voce off che ci accompagna a guardare il personaggio lascia tra lo spettatore e il personaggio uno spazio cioè non ci identifichiamo completamente in lui lo guardiamo un po' che sembra un po' uno spazio speculare allo scarto che lui sente esserci tra lui e la realtà non so se c'era questo intento possibile no 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 perdone creo che me gustava la idea del dispositivo de la voce de Nover me gustava come si bien no è qualcosa che mi sale naturalmente non ho avessi pensato che ho avessi pensato una pelicula con ese dispositivo a la hora di editarla me di cuenta che había informazione che era necessaria da come la idea come una transcrizione di quello che è successo, come una specie di riscrizione di una storia e di quanto può digerire la realtà e di quanto non. Per quanto riguarda per esempio la voiceover, nel senso che questo elemento inizialmente non era così, non è stato qualcosa che è stato pensato di partenza. Diciamo che mi sono reso conto della necessità di determinati elementi proprio quando si è trattato di arrivare al montaggio e mi sono reso conto che mancavano delle informazioni che in realtà forse dovevano essere fornite a chi guardava. E si è trasformata questa cosa in questa specie di diario intimo che però in realtà non è stato intenzionalmente, non di certo, non aveva l'intenzione di sottolineare quello che è il distanziamento che prova il protagonista nei confronti degli eventi del mondo, delle altre persone, piuttosto sottolineare e rivelare quelle che erano le menzogne che diceva a se stesso, le bugie che si raccontava nel ricordare o nel rivivere i ricordi e la storia. Quindi il diario diventa una specie di trascrizione di questa storia riscritta da lui stesso con tutte le bugie, i ricordi errati, che lui stesso e le ipocrisie, diciamo così, lui stesso si auto impone quasi per cercare di superare quello che sono le sue difficoltà nei confronti del mondo e della vita. Sì, forse mi sono espressa male, non era una distanza da lui, al contrario lo sentiamo molto vicino ma riusciamo a fare questo perché lo guardiamo un po' dall'esterno. Comunque il punto su cui volevo tornare era la fase di montaggio, è stato un momento particolarmente importante quindi da quanto mi sta dicendo. La editora della film è anche la co-vianista, aiutò in la scrittura del guion e anche al aver stato filmato in piccola etapiche a lo largo di cinque anni, aveva una gran... Ibamos editando a medida che filmavamo e... e quindi aparecia la necessità di come, a caso faltaria qualcosa di più, e íbamos a filmare a medida che la film lo necessitava e quella era una forma molto buona di lavorare. E poi, sì, al final del processo, avevo bastante... Sì, con Anna, la montagista, tengo una relazione di molti anni, montò la mia prima film, siamo molto amici, e abbiamo una comprensione molto buona di sapere lo che stiamo pensando al stesso tempo, come... Quindi, sì, è un luogo dove si aparecen idee tutto il tempo e, di repente, quando senti che il pulso della film va bajando, si sono aggiungi come un elemento, come... flash forward raro, che abbiamo una soltura per poter provare cose rarmi e reirnos se non funziona, e è come un luogo in gioco. Acá, c'è un elemento che a mi, magari, mi costò più che la precedente, che era che aveva la mia cara di tarado tutto il tempo, e mi ricordi molto a Anna per che mi tranquillissi con me diciamo che il montaggio è stato estremamente importante proprio per l'approccio che è stato adottato per il progetto, per il film nel senso che è stato girato nell'arco di cinque anni quindi girando poco per volta poche scene per volta e montando mano a mano e durante proprio questo processo di montaggio di queste scene girate di volta in volta ci si rendeva conto in realtà che magari mancava qualcosa e quindi si tornava a girare e così via e quindi praticamente si girava e si montava sulla base si girava sulla base di quelli che erano i requisiti, le necessità derivanti da quello che avevamo visto in sede di montaggio ed è stato un lavoro di grande cooperazione con Anna Godoy che è la volontatrice che però è anche co-sceneggiatrice e con lei lavoro da tantissimi anni e non soltanto cooperiamo da tantissimi anni siamo profondamente amici siamo grandi amici e siamo due persone che si capiscono al volo in maniera assurda ci guardiamo e ci capiamo al volo e abbiamo avuto la possibilità quindi di incontrarci parlare tentare soluzioni e così via molte volte anche seguendo un procedimento che non avevo certo seguito nel mio primo film che era stato molto più diciamo classico come approccio che però mi aveva lasciato stremato diciamo dal punto di vista della tensione e del nervoso che insomma ci ho messo parecchio a riprendermi qua in questo caso molte volte abbiamo provato mentre prima era un po' più classico qui abbiamo usato e provato anche cose che strane le cose più strane le cose più difficili anche flash forward addirittura e cose del genere che magari in precedenza non avrei mai considerato avrei mai preso in considerazione un tavolo di esperimenti ci sono domande? grazie buongiorno Sara Long di CineDance mi chiedevo quali fossero i suoi riferimenti cinematografici per rappresentare e raccontare questo personaggio io personalmente siamo in Italia ci ho visto anche un po' di Nanni Moretti del suo senso di inadeguatezza caro diario lui che mangia gli spaghetti quindi mi chiedevo se ci fossero o quali fossero insomma grazie di Nanni Moretti identificar più chiaramente a chi le aveva robato. In cambio, in questa credo che la influencia principale erano anécdotas o che mi avevano passato a me o che le avevano passato a alcuni amici e trovare la forma di raccontare qualcosa di la vita. E poi, al aver messo facendo una cosa di viñetita aveva molte influenze anche un po' televisiva che mi servono, che mi gustava la struttura di un episodio una serie che si chiama Louie che credo che fu una specie di punto di partita però sì, se mi hace un blanco mental quando mi preguntano per l'influenza. Devo ammettere effettivamente che c'è qualcosa di riferimento si può fare questo riferimento a Nanni Moretti a Caro Diario però devo dire che è un qualcosa che ammetto possa essere riconosciuto ma non è stata assolutamente una scelta consapevole non è stato consapevole inserire quelle immagini. Questo film, rispetto al mio film precedente in cui assolutamente sono in grado di ammettere di riconoscere i riferimenti a cui ho rubato mettiamo tra virgolette e qui invece si tratta più di riferimenti personali nel senso che i riferimenti sono aneddoti della vita reale mia sono biografici cose successe a me, ai miei amici conoscente e così via e più che altro anche un tentativo di trovare il modo di raccontare la vita o come adattarsi diciamo alla vita e soprattutto può essere che ci sia più che altro un riferimento diciamo un'influenza a quello che è la struttura episodica soprattutto all'inizio episodica che si trova nelle serie televisive proprio perché questo film originariamente era nato come un insieme di vignette che avrebbero portato quindi episodi e forse con riferimento a questa serie forse americana che si chiama lui che può essere influenzato in questo senso Ci sono altre domande? Sì, se ci può dire qualcosa invece riguardo ai disegni che ci sono nel diario perché a parte che sono molto belli poi si ricollegano anche forse i titoli di coda che sono particolari tutti scritti a mano se ci può dire qualcosa anche su questo la idea del diario come metodo organizzatore aparecì abbastanza tardi nel processo e filmamo una versione di questo con una hoja di diario scritto e non funzionava e non funzionava e non funzionava e credo che fu... no, non credo fu Anna Godoy quien tuvo la idea sabendo che io hacía dibujos per a me che non le mostraba a nadie che... insistiò con che che butti che può mettere esos dibujos in la 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 Il diario originariamente in realtà doveva essere qualcosa di diverso perché è arrivato più tardi in fase di montaggio, quindi diario intimo. E doveva essere una specie di elemento organizzatore, che organizzava un organizer di tutto quello che succedeva nel film. E ne abbiamo girato una prima versione che non era come quella che si vede nel film, ma semplicemente si mostrava quella che era la pagina scritta, ma non funzionava. Io per un po' non sono riuscita a capire perché non funzionasse questa cosa, per cui a un certo punto Anna, Godoy sempre, le venne questa idea, espresse questa idea di inserire proprio dei disegni. Perché lei sapeva che io facevo dei disegni, io disegno per me, disegni che non mostro, non intendevo mostrare a nessuno. E all'inizio ho fatto resistenza assolutamente perché non volevo che venissero mostrati, uscissero dalla mia sfera intima. Poi ho deciso alla fine di fidarmi della sua fiducia nei miei disegni e l'abbiamo inserito e funzionava. I titoli di coda in realtà deriva il fatto di essere stati scritti a mano, diciamo, la grafia ecco. Era perché ho pensato per un po' che non riuscivo a trovare nessuna forma tipografica che potesse essere accettabile, e per cui ho deciso che sarebbe stato divertente, no? Una cosa divertente se li avessi scritti a mano. Sì, non solo divertente ma anche molto efficace perché forse è l'unico film di cui io non ho letto tutti i titoli fino all'ultimo, quindi è una strategia che funziona benissimo. Io volevo sapere, lei si è scelto come attore da subito? Ci ha pensato? È stata una necessità? Aveva immaginato qualcun altro prima? Sempre fu, sì, la idea fu, sempre fu conmigo. No sé, in un punto supongo che nessuno più me lo iba a ofrecer, in un altro punto anche era, al aver sido filmata a lo largo di tantos anni, e mi costava pensare in un altro actor con il suo livello di compromiso, e un altro actor più barato che io non ho avuto. Quindi, avevo come... E anche, originalmente, era come... L era come il personaggio secundario che stava accompagnando una storia che girava alrededor del altro personaggio, quindi era come una specie di conduttore, intervistatore, se si chiede, originalmente, e questo, beh, poi fu cambiando e il personaggio fu tomando più profondità, però... Però, beh, sì. Fino da subito, dall'inizio, c'è stata questa idea, ho saputo che dovevo essere io, anche perché chi altri mi avrebbe offerto di fare questa parte, e poi, in ogni caso, il progetto si è evoluto nel corso degli anni, ha richiesto parecchi anni, e quindi non riuscivo a pensare a un qualche altro attore, un'altra persona, che potesse avere, offrire quel livello di coinvolgimento, e soprattutto, nel corso degli anni, qualcuno che costasse di meno di me, insomma, io ero quello meno, ero più economico di tutti tra gli attori. E anche perché, proprio per la struttura del film, che originariamente prevedeva un artista come personaggio secondario, cioè una specie di guida, soltanto intervistatore, che doveva accompagnare tutti gli altri personaggi, ed è per questo che, in realtà, sono partito fin dall'inizio io. Non so se ha visto che insieme al Festival c'è un focus sull'Argentina, con molti registi argentini ospiti. Si può dire che c'è un movimento comune? Lei si accomuna a qualche movimento attuale, contemporaneo, in Argentina? È un focus che ha curato Giulio Casadei, facendo venire diversi film? Il cinema argentino, credo che non è stato così amenazato come lo sta oggi. Credo che le film che si stanno mostrando ora, sono delle ultime in poter entrare mentre la porta si va cerrando. Incluso la film di Camilla Fabri, che stava qua, ha avuto un ruotaggio, al essere mitad documental, hibrido documental e ficzione, però ha avuto un ruotaggio molto più corto di quello normale, e questo è per questione di un problema economico cae molto grande in Argentina. Acaba di asumir un presidente che fu molto vocal con respecto a creer cerrar il instituto, molto vocal con respecto a che non pensa che la cultura sia qualcosa che merece essere... Quindi, in un punto sì, credo che abbiamo tutti qualcosa di resistenza in common. Credo che anche ci sono diverse in questo festival, con molti schermi di produzione molto diversi, c'è gente che lo hizo con dinero del instituto, c'è gente che filmò independientemente, sono le film di Mariano Oginà, che è una eminencia argentina, e Agustin Mendilarsu, che sono parte di una productora del Pampero, che ha fatto una trascendoria molto incredibile, e ha fatto una forma di produzione molto particolare. La realtà è una luci esperanzadora per il futuro del cinema argentino. credo che il cinema giardino non sia mai stato così sotto minaccia minacciato quanto lo è ora per quanto riguarda la sua sopravvivenza perché ci sono film anche qua presenti al festival di cui per esempio sono gli ultimi ad essere praticamente riusciti a infilarsi attraverso la porta i battenti della porta si stavano chiudendo e sono riusciti a essere fatti, a essere presenti come quello anche di Camilla Fabri se perde nel bosco che è stato girato come un ibrido tra finzione e documentario e che però per poterlo girare in ogni caso a causa di vari tagli e problemi economici e finanziari tagli economici ha avuto tempi molto più corti rispetto al previsto per quanto riguardava le riprese quindi è stato uno dei sacrificati da questi tagli visto che adesso è anche saltato fuori adesso il nuovo presidente è stato molto chiaro ha dichiarato proprio espressamente che chiuderà intende intende chiudere quello che l'istituto del cine argentino che quindi è che la cultura non ha nessun non merita diciamo di essere di esistere di essere fatta e quindi quello che abbiamo tutti in comune in realtà è sì la resistenza noi cerchiamo di resistere poi naturalmente a seconda delle proprie personalità delle proprie attitudini ci sono film di diverse tipologie ci sono produzioni naturalmente di diverse tipologie c'è chi è una che ha prodotto in modo indipendente c'è chi invece ha prodotto in passato con i fondi dell'istituto del cine ci sono grandi realtà anche indipendenti per esempio come Zinas e Mandalazu che sono parte di Pampero Sine che è una realtà produttiva assolutamente indipendente che hanno fatto dei bellissimi film e adesso c'è anche appunto Lautaro García Candela che in questo momento speriamo c'è una speranza per il futuro del cinema argentino diciamo che esiste una pluralità di voci che potrebbe essere ancora più plurale cercheremo di essere solidari con questo movimento di resistenza non c'è dubbio grazie mille in bocca al lupo allora ci dobbiamo fermare buon festival e grazie per aver condiviso il suo lavoro con noi grazie mille 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 grazie mille